Va, 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 allora io ho una bella casa, una casa bellissima, l'ho costruita, ci ho messo un po' di tempo, ci ho messo tanti anni a un certo punto, però mi rendo conto che questa casa alle porte non ce l'ha, quindi cosa dico? Va beh, e io ho questa casa bellissima, allora faccio una cosa, prendo e costruisco una porta, una porta in questa casa per far entrare, insomma, dici venite, ciao, è una casa figa, ok, venite qui, andiamo, stiamo insieme, insomma, faccio vedere tutto quello che c'è qua dentro, quindi entrate così, costruisco questa porta, però, però, però a un certo punto quando costruisco questa porta e do l'accesso alla casa a un certo punto fa schifo, no, beh, hai dato l'accesso adesso alla casa, fa schifo, non vale niente, tutto è cambiato, non ci sono più i muri, il pavimento è sparito, tutto quello che era stato costruito dentro è scomparso magicamente solo per una porta, una porta, una porta che si apre, fa così, no, una porta. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, spopolano queste follie sui social, ma quanta spazzatura, questo è il vero problema, quante idiozie, senza senso, zero forma di scientifica, zero statistica, zero numeri, zero analisi, solo... Sette a cavolo, aprendo la finestra e urlando, come c'era un bel film tantissimi anni fa, di quelli di, diciamo, della comicità italiana, allora, cosa vere, cosa non vere, di questa roba non è vera nessuna, l'ETF distrugge Bitcoin, ma di cosa stiamo parlando? Non c'entra assolutamente niente su questa cosa qui, sono due cose completamente diverse, l'ETF distrugge Bitcoin perché Bitcoin doveva essere un'arma contro il sistema e far crashare il sistema? Intanto non lo è mai stato Bitcoin, quest'arma contro il sistema, era l'idea di alcune persone, una minoranza molto ridotta delle persone, pensava questa cosa qui, era un'alternativa al sistema, questa la pensano in tanti. E cosa cambia un'alternativa al sistema se su quell'alternativa noi diamo spazio alle possibilità a tante persone di poter entrare senza dover passare tra 13.000 wallet e macchinette di questo tipo che ovviamente al signore di 100 anni non gliene frega una mazza e nemmeno alla stragrande maggioranza di tante altre persone gli importa, quello che gli importa magari è che questa rivoluzione così la riescono a cavalcare, o meglio ancora alcuni di loro potranno comprenderla questa rivoluzione, è quello il discorso. Ma no, no, noi diamo i nostri Bitcoin in mano a BlackRock, in mano a chi li diamo i Bitcoin, a chi li diamo, intanto i Bitcoin in mano non si possono tenere ragazzi, vi assicuro a parte questo, se non lo avete, non possiamo tenere Bitcoin in mano, ma a parte questo in un ETF quello che voi depositate sono dollari, non Bitcoin. Quindi noi non diamo i nostri Bitcoin a BlackRock, nessuno dà i Bitcoin a BlackRock. BlackRock compra per i suoi investitori, che sono le persone come me, voi, quel che sia, cioè chi investe, compra i Bitcoin per i suoi investitori, che sono le persone, per far sì che quelle persone possano investire su quella asset. Ma non è che noi gli diamo i nostri Bitcoin, se li avete i Bitcoin, li avete comprati, li tenete nei wallet, eccetera. Ma se io sono una persona che non ho mai avuto un wallet e voglio decidere di diversificare il mio investimento e ho un'alternativa in questo caso, cioè andare su Bitcoin, che cos'è Bitcoin? Wow, figo, me lo vado a studiare e poi dopo magari dico, ah lo sai che ti dico, me lo compro e me lo metto in queste bancarelle qui e me lo porto in giro per il mondo attaccato al portachiavi. Va bene, allora però in questo modo noi abbiamo modo di farlo conoscere. Va bene, è modo e spazio a tante persone, tante persone, tante persone, non solo gli addetti ai lavori, non solo chi deve stare lì a smanettare, eccetera, tutto il giorno, alle persone che hanno altri interessi nella vita, non solo queste cose. Diamo spazio a loro di poter conoscere questa cosa qui, questa rivoluzione. E da lì è una passeggiata, perché sapete cosa significa quando si investe in crypto, quando si toccano per la prima volta questo mondo, poi lo adori quasi sempre così, ti appassioni, magari si appassioneranno tante persone che fino all'altro giorno non si fidavano, perché le persone ci sono che sono così. E non è che li devi sparare, o li puoi dire no, tu ti devi fidare a forza, devi semplicemente dirgli guarda, prova, vedi come ti trovi, vedi e va. Quindi noi non diamo i nostri bitcoin a BlackRock, nessuno li dà, chi li dà? Li dà Coinbase, ma Coinbase era un'altra balena, quindi che cosa state dicendo? Cioè, per quale motivo? Le balene ci sono, ragazzi, i miners sono balene, hanno centinaia di migliaia di bitcoin, ci sono dei wallet che hanno migliaia di bitcoin e sono loro che li danno a Macro. Certamente non si prendono i miei e neanche i vostri, perché nessuno glieli dà. Va bene ragazzi, allora, questa va prima per dire che sta spopolando un po' di roba, senza senso, proprio il no sense, perché sulla questione della protezione dell'ETF, la morte dell'ecrypto, tutto è finito, non è finito assolutamente niente, non è neanche iniziato. Tutto quello che riguarda il mondo dell'ecrypto è identico al giorno prima, quello che è cambiato è una porta, hanno messo la maniglia e una porta ad un mondo, è dato la possibilità a tante persone di conoscere questo mondo. Tanto è vero che in Europa i bitcoin ci sono da quasi un anno gli ETF su bitcoin, ragazzi, ma essendo che il mercato cripto e bitcoin è un mercato globalizzato, non è utile avere gli ETF in un solo continente, seppur è l'Europa. Perché semplicemente è troppo poco per bitcoin, serve non solo gli Stati Uniti come sono arrivati, servirà anche l'Asia, ragazzi, perché bitcoin è un mercato globale, non si riferisce ad un pezzettino del mondo. Quindi per avere un accesso deve esserci questo accesso da tutte le parti del mondo. Ecco perché i bitcoin USA, US hanno fatto molto più scalpore, perché il mercato è più grande e quindi si va ad aggiungere un altro pezzo, un altro tassello a questo puzzle. Ma noi da quasi più di un anno che c'erano gli ETF nell'Europa non è che sia cambiata qualcosa, ragazzi. Non è cambiato niente nei mercati cripto, si continua a sviluppare la parte tecnologica dei progetti delle cripto, si continua a sviluppare. Bitcoin si continua a sviluppare, sono cambiate tante cose anche su bitcoin, si sta cercando di innovare laddove c'è la possibilità. Poi dove andiamo lo decideranno tutte le persone che mettono ogni giorno ore della loro vita a programmare, programmare, programmare queste tecnologie, ragazzi, va bene? Questo è la verità. Quindi BlackRock cosa fa? Sfrutta un business in un mondo. E per quale motivo questo sarebbe un male? BlackRock ha ETF anche sull'acqua. Allora l'acqua adesso è un male perché c'ha BlackRock le ETF sull'acqua, non bevete da stasera, ragazzi. Da stasera solo Gatorade, senza acqua però, dovete farli quelli senza acqua perché è un male l'acqua, va bene. Allora, vi prego, vi prego, staccatevi da questi concetti e l'inutilità e la, diciamo, quantità di informazioni sbagliate che recepite in questo modo vi limitano in un solo obiettivo, il vostro obiettivo, l'obiettivo di tutti. Se siete informatici, continuare a progettare, a costruire, a innovare attraverso la programmazione. Se siete investitori, investire in ciò che può darvi profitto. Investire per proteggere il vostro patrimonio e creare nuove opportunità di profitto. BillCoin è una nuova opportunità di profitto? Sì. BillCoin protegge il vostro patrimonio? No. Perché se non lo sapete, utilizzare quello capace che vi fa meno 60. Ma questo è un concetto che va imparato nei mercati, ragazzi, va bene. Va imparato. Quindi avere nuove opportunità di investimento è per tutti una grande risorsa e un grande valore. Quindi gli ETF ci danno spazio, ci danno una bella vetrina di poter dire al mondo esistiamo e questo mondo qui può fare tante cose. Ma prima di tutto serve la porta, ok? Torno normale, ve lo prometto! Analisi tecnica perché oggi è il Bitcoin Monday. Ma scusate, ogni tanto è giusto anche dire le cose come stanno perché veramente c'è una quantità di persone che parlano senza ragione di causa e soprattutto bisognerebbe molto di più ascoltare piuttosto che dare giudizi e dire alle persone Ah tu sei così, tu sei quelli. Non date giudizi, fate profitto, va bene. Analizzate i mercati perché quello che serve se state facendo investimenti è analizzare i mercati. Mi raccomando ragazzi, è molto importante, serve quello. No paraocchi, no altro. Va bene, allora analisi ciclica su Bitcoin. Bitcoin in fase di chiusura del ciclo mensile in questo momento. Pensavo fosse chiuso invece, era un calesse, diceva un vecchio PIM, no. Pensavo fosse chiuso invece non è stato chiuso il ciclo mensile perché ha fatto poi questi scivoloni. Ma la mia best resistance indicata in tempi memory una settimana fa è stata la variabile, è stata la chiave di volta del mercato. Ha bloccato il rialzo di Bitcoin. Video della scorso lunedì. Trovate ogni informazione, tutto ciò che è scritto, tutto ciò che è stato detto là. Ragazzi è successo alla fine. Esattamente questa roba qui. Cioè io a un certo punto speravo si potesse fare. Tant'è vero che non sono riuscito in nessun modo a sfruttare questa cosa a livello operativo. Però alla fine, niente ragazzi. Poi le resistenze, vedete un po' quello che è successo. E niente, è rimasta lì intatta. Solo shadow inutili. Dopodiché immediatamente si è rigettato e sulla parte bassa del canale ascendente Bitcoin. Secondo me la possibilità di breccare questo canale è molto alta, ragazzi. È molto alta perché potrebbe esserci in effetti, vedete, la strutturazione che questo tipo di trend possa essere in effetti un po' bloccato. Adesso andrebbe teoricamente anche rifatto questo canale perché non è proprio preciso a livello parallelo. Però teoricamente, ok, se siamo in questo concetto, vedete, è stato breccato recentemente. Io non mi baso molto su queste figure, ormai lo sapete. Non mi piaceva dall'inizio, settimana l'altra, non la scorsa, l'altra prima vi avevo già detto che era pericolosa questa figurazione. Così è stato. Ma da queste sono operazioni di trading, queste sono operazioni short term, sono cose di volatilità che avvengono sui mercati. Non inficiano niente da un punto di vista di struttura del mercato. Vanno studiati i ragazzi perché noi attraverso questi momenti capiamo se succede qualcosa a livello strutturale poi nel medio lungo. Perché le avvisaglie le avete dal breve, però a livello strutturale non è cambiato assolutamente nulla da questo punto di vista. Però, però, però il trend si è un po' incrinato. Quale trend? Questo qui, quello che era iniziato da settembre del 2023 e che aveva fatto un rialzo stellare. Guardate, un po' qui nell'ultima parte già si vedeva che cincischiava. A un certo punto si sta definendo. Ora, il primo livello di supporto è stato raggiunto, che era questo livello qui, 42.000 dollari. Il secondo sono i 40.000 dollari. Al di sotto di quel livello lì c'è questa zona, 38.000. È qualcosa che è una zona molto interessante. Dovesse effettivamente andarci, io non penso, ci andrà in questa fase, dico, nei prossimi due o tre giorni. Però, se dovesse andarci è molto interessante e anche molto brutto dal punto di vista a livello di movimento. Però, ragazzi, cosa significa questa questione della chiusura del ciclo mentire? Che è possibile che nei prossimi due giorni, fino a giovedì, per esempio, mercoledì, giovedì, io ho un'idea di visione, cioè di finestra temporale, mercoledì, 17.000, giovedì, 18.000 di gennaio. Per questa settimana, se dovessimo andare un po' down, chiuderci, per esempio, in questa zona, quasi quasi, non vi nascondo che potrei optare per fare qualche operazioncina, in questo caso proprio in DIP, perché? Perché avrei due punti estremamente importanti per uscire, cioè sotto 40.000 come primo livello di stop e poi sono con un salvagente fino a 38.000, quindi in sostanza ho poco margine di perdita, qualora dovesse succedere. Potrebbe essere interessante un'operazione del genere. Attenzione alla chiusura di questo ciclo mensile, perché coincide anche con la questione di Ethereum, perché Ethereum, che ha iniziato una nuova fase, un nuovo ciclo, probabilmente trimestrale, sul minimo del 3 di gennaio, potrebbe in effetti ricominciare la sua fase di salita proprio fra qualche giorno. Quello che sta facendo in questo momento è la chiusura di un ciclo di natura bisettimanale, quindi doppia settimana, quindi circa 14-16 giorni. Da lì in poi potrebbe tranquillamente fare nuovi massimi rispetto a questo punto, quindi altro buy in quel punto, secondo me, potrebbe starci su Ethereum. Su Bitcoin la questione è un po' più difficile, perché ragazzi vi faccio vedere quello che è il grafico mensile. Da un punto di vista tecnico il grafico mensile in questo momento è diventato, scusate, un po' pericolosetto, perché questa figurazione del mese di gennaio è assolutamente da evitare, questo Evening Star è una figura di inversione di medio periodo. Quando e se verrà confermata questa figurazione ne parleremo sul canale, quindi mi raccomando ragazzi iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, conoscetemi anche i pollicioni che mi sono, diciamo, messo a parlare in maniera infoiata, diciamo prima, per me, diciamo, per com'è il mio mood su YouTube ormai lo conoscete, però questa cosa qui ci dice anche una problematica. Se questa figurazione chiude così a livello mensile non è buono, quindi è possibile che fino a questa settimana assistere appunto questa fase di leggera riflessione e poi da lì in poi, gli ultimi dieci giorni, recuperare un pezzettino magari di questa struttura ribassista, ritornare magari in zona 44-45 e chiudere a gennaio una candela che non è proprio uno schifo come questa? Allora, questa cosa qui, campanello d'allarme, mettetevela in testa, è possibile anche perché mi interessava quindi proprio alla fine di questa settimana, mercoledì, giovedì, vi dicevo, andare a ragionare. Poi, tanto, se dovesse andare male la cosa, chiudo in stop. E fine dei giochi, niente di male, ovviamente si gestisce l'operazione, poi quella è tecnica di trading, non serve avere una previsione che si verifica al 100%, anche questa roba ancora che gira. Se avete una tecnica di trading, il più delle volte se perdete, perdete poco e quando guadagnate, guadagnate tantissimo, quindi concettualmente alla fine la somma dei punti è positiva, a noi questo interessa. La somma dei punti, non avere ragione, il discorso di avere ragione vale tanto e non quanto. Allora, questa fase qui vi ho accennato appunto a questa problematica su Bitcoin. Secondo me dovremmo attendere appunto i prossimi due giorni. Da un punto di vista invece vi faccio vedere della FOMO, FOMO sì, FOMO no, non c'è più FOMO, tant'è vero che oggi abbiamo pubblicato anche l'articolo sul blog di Trading On, e quest'articolo dove parla appunto della questione che il sentiment di mercato è diventato già neutrale dopo solo due giorni, ma ci mancherebbe, non è cambiato assolutamente nulla. 52, quindi significa che boh siamo nella terra di nessuno, possiamo ritornare tranquillamente a salire. secondo me per l'anno 2024 iniziare da qui una fase già di pump importante è un po' insomma prematuro, siamo a gennaio, io vi assicuro che non mi dispiacerebbe vedere qualche mese di attesa, tant'è vero che da un punto di vista tecnico potremmo tranquillamente avere una struttura di recupero magari per il mese di gennaio, ma poi una chiusura del ciclo annuale di Bitcoin fino a marzo, come da previsione di Artur Ayes, di cui ho parlato in un altro video, e ci starebbe a pennello anche con la questione di Ethereum ragazzi, si stanno andando a incastrare delle cose che sono magnifiche, e soprattutto ci danno grande possibilità, se si verificano queste fasi qua, lo so alcuni di voi, non piacerà che io dica che magari poi si scende per un po' fino a marzo per recuperare e rifiatare, però i mercati non possono solo salire, devono anche oggettivamente riequilibrarsi, e Bitcoin nell'anno 2023 è stato eccessivo ragazzi, non è stato normale, è stato un anno eccessivo, ricordatevelo, perché i livelli di support, di resistenza raggiunti intorno ai 35-38, erano già ampiamente elevati, siamo arrivati a 44-45, quindi è stato molto spinto per la notizia dell'ETF e tutto il resto, quindi ci sta insomma che ci sia questa fase di riposo. Poi volevo anche ricordarvi che l'altra volta ho pubblicato anche una serie di articoli con la questione dell'AOM, dell'Asset Under Management di Bitcoin sui ETF, sarà importantissimo vedere come stanno andando gli AUM, gli Asset Under Management, per capire se cosa, perché anche questo viene spesso detto, ma poi non lo spiegano, perché serve capire questi Asset Under Management, per capire se l'ETF ha successo, ma da lì significa che il prezzo schizza le stelle. No, ancora una volta, non legate il concetto che un investimento è adottato, in questo caso col fatto che poi esplode, perché non è così ragazzi, non è così, non è legata la cosa, dipende da altri fattori, poi i mercati seguono la loro natura, intanto la possibilità che molti retail, molti investitori possono investire attraverso gli ETF di Bitcoin, e ci sta insomma, e l'hanno creata, poi da lì, avendo per esempio quello che è il discorso del, vi sto prendendo intanto l'AOM per farvelo vedere, quello di BlackRock, avendo concettualmente la questione del, del Asset Under Management sotto controllo, siamo in grado comunque di poter capire come sta andando la questione, intanto vedete si aggiornano anche le varie performance, però questo ho sbagliato io l'ETF, fatemi vedere indietro, allora ho messo, quello di Bitcoin ci serve i bit, ok, lo mettiamo, lo scriviamo, così lo andiamo a vedere insieme, eccolo qua ragazzi, allora ci siamo di nuovo, siamo tornati, andiamo a vedere la questione di come sta, la strutturazione della, dell'AOM, e vediamo un po', ok, eccolo qui ragazzi, l'ho pubblicato anche sul mio canale X, l'altra volta siamo arrivati a mezzo miliardo, non sono i soli, poi hanno pubblicato una serie di tabelle, anche il giornalista di Bloomberg ha pubblicato una serie di tabelle, per quanto riguarda l'AOM, e indicavano che ovviamente c'erano, adesso vediamo, vi faccio vedere anche direttamente la tabella, c'erano una serie di, anche se c'è la tabella, c'erano alcune incongruenze, per questo non l'ho ripubblicata, perché dei dati non, non, non mi stavano a genio, cioè l'avevo guardato, ho detto, ah ci sono delle robe che non capisco, poi vi faccio vedere, eccola qui, l'ultima uscita perché poi il weekend è stato chiuso, quindi l'AOM che è asset under management, che erano più o meno aumentati, anche la scorsa settimana, però sono ancora bassissimi ragazzi, ok, quindi questo discorso a noi ci servirà solo per comprendere cosa, comprendere se c'è un adoption, se piace bitcoin, se piace, ma non è che da qui il movimento di prezzo sarà stellare, certo, se piace tanto, e quindi il movimento dell'AOM diventano più a trend continuo, allora si cambia ragazzi, cambia tanto, perché da quel punto di vista poi a un certo punto si innesca una tecnica di continua demand, in pratica è come se noi avessimo, immaginate così, allora gli etf danno una porta di ingresso, a un certo punto iniziano ad entrare le persone, man mano che le persone stanno entrando, sono poche, non c'è coda, non c'è fila, non succede niente, stiamo tutti nella stanza, non c'è problema, ma quando poi iniziano a essere tante, si innesca una domanda continua dell'asset, la domanda continua dell'asset cosa fa? ogni volta che c'è una dip compra, ogni volta che c'è una dip è un comprare continuo, è come una macchina che costantemente compra, compra, immette liquidità, immette liquidità significa che si genera un trend rialzista, estremamente poco volatile e molto lineare, cosa che avete già visto per esempio nell'ambito dei mercati classici, quando avete visto le superbolle degli anni del scorsi, per esempio su Nasdaq, ve la faccio vedere quella dopo, le crisi del 2018, del 2008 scusate, eccole qua ragazzi, allora tutti questi meccanismi, che comunque oscillavano, non è che non oscillavano, sono dovuti a immissioni di liquidità costanti, questi sono buyback azionari, immissioni di liquidità della parte della Federal Reserve, eccetera, non è che poi non oscilla, però innesca dei meccanismi chiaramente di continuità, perciò se la OMS, gli ETF Bitcoin avranno successo nei prossimi mesi barra anni, quello che si innescherà alla fine sarà questa domanda continua, che farà in modo che la volatilità a ribasso di Bitcoin, sarà molto contenuta e quindi scenderà la volatilità, si accorcia e ci sarà appunto questa salita sul carro, poi e solo dopo, in una fase del genere che durerà anni, sicuramente ci potrebbe essere il pericolo che qualcuno venda, distribuisca e poi crashi, perché prima che arrivi a una fase del genere, bisogna che ci sia il pubblico, cioè dovremmo avere tante persone connesse prima di fare eventuali manipolazioni o speculazioni, al momento la manipolazione fatta su un ETF di BlackRock, a chi punisce? Chi punisce? Cioè loro stessi, chi ragazzi? Non c'era nessuno quell'ETF ancora, va bene, e questo è il discorso, allora prima devono entrare tutti i retail, se non arrivano tutti i retail, ci vorranno anni, perché prima bisogna vedere se avrà successo, e da lì cercare di capire se effettivamente arriveranno i retail, eccetera, dopo, solo dopo quello, e quando sarà deciso di fare una manipolazione, allora forse poi potrebbe essere il caso, che è bene una, diciamo vendita al parco buoi, si chiama così, e quindi i retail sarebbero da attenzionare, ma stiamo parlando di cosa ragazzi? Cioè 5 anni, adesso io mi preoccupo di una cosa che non è mai avvenuta, mai esistita, non è nelle corde, non esiste in nessun punto di vista, perché non c'è, non c'è ancora niente, cosa stanno vendendo, a chi lo stanno vendendo, poi vendono cosa, lo potevano già fare con i futures, quelle cose lì, non c'è alcuna logica, e in queste questioni qui, prima devono entrare le persone, poi magari faccio il sell, di quello che ho comprato, ma se io non ho ancora comprato nulla, cioè allora, quindi siamo proprio veramente agli albori ragazzi, quindi in questi anni diciamo non mi preoccuperei di questa questione, mi preoccuperei più che altro delle normali oscillazioni di bitcoin come abbiamo visto, e poi essenzialmente mi preoccuperei della adoption, bitcoin etf ha successo, ha successo sì o no, l'aum aumenta, aumenta costantemente, a un certo punto continuerà a aumentare, anche se bitcoin scende, ok, cosa succede nei momenti di crolli di bitcoin? gli etf diminuiscono, muoiono, fanno volumi, ha successo questo prodotto, da lì cambieranno tante cose ragazzi, ve l'ho detto sei mesi fa, e ora ci siamo di nuovo arrivati, è quello ciò che dobbiamo guardare, nei prossimi giorni, va bene, prossimi anni direi io, però che emozione ragazzi, che emozione, è un nuovo, una nuova realtà, e alla fine è figa così, ciao, buon inizio settimana!